primo round del come in event ragazzi dove c'è Marvin Vettori come protagonista un round veramente veramente equilibrato con Whittaker che ha messo dei colpi potenti Marvin però secondo me l'ha battuto in quantità quindi io credo che il 10 a 9 sia per Marvin a questo giro però vediamo un po' è molto interpretabile questo round è veramente sul filo del rasoio secondo round ragazzi Robert Whittaker trova un varco nella guardia di Marvin e riesce a entrare dal lato sinistro di Marvin riuscendo a capitalizzare qualche colpo che Marvin incassa molto bene ma che comunque consegna il punteggio del round a favore di Whittaker quindi teoricamente per i miei cartellini siamo uno pari e terzo round ragazzi si guadagna la vittoria a Whittaker mettendo a segno i colpi più pesanti continuando la progressione e il logonamento sul lato sinistro di Marvin il quale cerca di contrastare dimostrando comunque sia una grande tenacia un grandimento ma la maggiore offensiva rimane dalla parte di Whittaker che si conquista onestamente e incontestabilmente la vittoria un Whittaker che a questo punto blocca la categoria perché rimane tutto esattamente com'è se non altro che Alessania deve comunque sia scontrarsi contro la sua nemesi nella kickboxing ovvero Pereira che sembra avere le carte in regola per metterlo in difficoltà per quanto riguarda Marvin dispiace perché è una sconfitta che comunque rallenta il percorso sportivo verso la gloria massima di questo sport ovvero la cintura ma tuttavia ci conferma delle doti e delle caratteristiche di Marvin che ne fanno uno dei fighter più apprezzati di questa categoria proprio perché comunque ha dimostrato una tenacia e una capacità di incassare i colpi fuori dal comune qualità apprezzata anche da Robert Whittaker nel commento post match che comunque si è dimostrato stupito dei colpi subiti da Marvin e della sua capabilità ad andare ancora avanti per quanto riguarda il suo futuro invece c'è da fare un po' di ragionamenti perché Whittaker a questo punto fa da ulteriore tappo alla categoria e che pone di fatto Marvin in una situazione di stallo dove se vuole combattere probabilmente dovrà andare a pescare da sotto se non vuole incappare in altri rematch con avversari già incontrati e quindi a questo punto secondo me dobbiamo puntare o su una forza fresca diciamo un giovane che sta facendo bene o altrimenti andare a scassare uno un po' diciamo come prepartita per poi rifarsi in un altro match magari anche con Whittaker o aspettare che comunque cambino le cilarchie di questa categoria detto ciò fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate che cosa vedete voi nel futuro di Marvin e chi vorreste che incontrasse prossimamente e noi ci risentiamo fra breve un saluto da Italian Fight Magazine il più grande canale di MMA che parla italiano CBA, never said, I've been with my girl for seven days need a raise, swear to god I'll never be the same TBH, t-t-t-t-t-t-t-TBH, yeah